Università Ca' Foscari, Iveser, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, AISO, l'Associazione Italiana di Storia Orale, non hanno scansato la rilettura della contestazione del 68 e del suo mito controverso in questo scorcio finale del cinquantesimo anniversario. È passato quasi sotto silenzio nel Veneto, che ne ha conosciuto slanci esaltanti e derive violente, furori ideologici e contraccolpi reazionari. Il guaio della sinistra viene da lontano perché ognuno ha la verità. Cosa dicono questi? Non riuscivi a capire la differenza tra un intervento e un altro in assemblea quando sembravano pressoché uguali. Un sognatore di mezzo secolo fa, nel documentario firmato per Iveser da Manuela Pellarin e Giorgio Cecchetti. Il racconto del 68, Venezia, Mestre, Porto Marghera. Non abbiamo intervistato solo il leader, abbiamo intervistato anche coloro che hanno partecipato magari in seconda fila al 68. Una certa generale reticenza a ricordarlo dice che non è materia di commemorazione innocua il 68, di certo non sterile per Francesca Socrate di Aiso e Stefania Portinari di Ca' Foscari. È tutto da indagare il confronto tra il maggio parigino di allora e la protesta attuale dei gile gialli nell'era della rete, tra rabbia popolare e populismi in tempi di disparità crescenti, inedite catastrofi ambientali e umanitarie, nuove ambiziose potenze globali. Nei gile gialli c'è un tono della rivoluzione francese, non hanno nulla a che fare con il 68, ma non è che la società è ferma. È un anno appassionante, si può vedere sotto molti aspetti, forse alcuni sono magari più resti ad affrontare certi argomenti.